Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera sono emersi vari interessi amorosi tra i concorrenti, in particolare tra Shaila e Javier, Lorenzo ed Elena, ma anche tra Shaila e Lorenzo. Questo groviglio di relazioni ha portato Elena e Lorenzo a un confronto emotivo che si è concluso con le lacrime. Durante la diretta Shaila e Javier sono stati presentati come una possibile coppia, mentre Lorenzo e Elena sembravano avvicinarsi sempre di più. Dopo la puntata, Lorenzo e Shaila hanno ammesso di essere attratti l'uno dall'altra, ma Elena non ha accettato bene questa situazione. Elena ha chiesto a Lorenzo di fare una scelta tra lei e Shaila, ma Lorenzo si è mostrato indeciso. Questo ha portato ad una discussione accesa tra i due, con Elena che ha deciso di chiudere con Lorenzo, dicendogli di averlo già perso. Lorenzo ha cercato di spiegare le sue ragioni, ma Elena si è sentita tradita e ferita. La situazione si è fatta sempre più tesa, con Elena che ha pianto disperata in camera. La vicenda ha scosso gli equilibri della casa, con tutti i concorrenti che si sono trovati coinvolti in questa complicata situazione amorosa. Resta da vedere come evolverà la situazione e se Lorenzo riuscirà a fare chiarezza nei suoi sentimenti. Restate sintonizzati per scoprire tutti.